bella ragazzi allora abbiamo signori siamo in questo posto bellissimo in questa strada molto pericolosa è un gioco per cellulari perché io io volevo scaricare una mappa simile su euro track indovina ci sono riuscito ovviamente no cioè credito essendo lo sfigato del quartiere cioè credito mille tutorial io ci riesco o no cioè poi giustamente vabbè io ho visto cioè che quando io mi fisso quando mi fisso io sono decoccio come si suol dire io sono decoccio che da una parte purtroppo e per fortuna modo cioè cioè quindi sai che c'è ci sarà una roba simile su anche per cellulare no piano 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 che poi scusa è veloce a partire cioè capito io volevo scaricare una mappa simile la che avevo pure trovato per euro track di questo tipo io l'avevo pure trovato i mortacci cioè io l'avevo io l'avevo pure trovata questa questo tipo di mappa su euro track indovina dopo 40 minuti vabbè dopo 40 minuti come cazzo si installa vabbè sembra fanculo addio si cerca una mappa simile però su c'è su come cazzo si chiama sul cellulare cazzo escono 7 miliardi di giochi ci sarà ecco ecco c'è c'è no perché io guardando mille gameplay mille ti corre per fortuna non è a tempo ah mi hanno tolto 40 euro 45 dollari vabbè vabbè sti cazzi cioè piano piano che di però è un po brutto che poi vabbè cioè il fatto che sia a doppio senso non è che non mi ispira molta fiducia e che cazzo e che cazzo e su capito ma perdo soltanto soldi così cioè e che cazzo per cioè e che cazzo per perdo solo soldi così almeno questo volante è compatibile io sto giocando con bluestack è l'emulatore per cellulare vabbè sem cellulare solo che sto da pc poi ovviamente ci saranno c'è giustamente altre c'è altri camion da da comprare mi sembra anche giusto sì sto capendo chiudo il race di quelli che sì sto cioè sto perdendo più soldi però ho capito però comunque cioè madù però sto fatto che è doppio senso questa strada cioè piano 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 no no ferm fermati fermati dove cazzo devi andare a funghi fermati fermo 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 c'è il fiatone al posto tuo che cazzo cioè che comunque tanto accorta non è questa strada vedi il 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 camioncino quello in alto quello sta cioè stiamo a metà percorso gi c'è quanto quanto cazzo mi quanto dovranno darvi 100 euro c'è paura poi io sono pure coglione che lo gioco col volante sto gioco sarà sto gioco è una puttanata giocato col joystick li gioco le palle io sono pure coglione giochiamolo facendo facendo il simulatore io sono pure coglione che mi voglio complicare la vita che giustamente avendo i due pulsantini che voi non vedete ne vedete soltanto uno cioè questo qua questo qua questo questo per andare a destra cioè io poi io che sono pure coglione che mi voglio complicare la vita quanto mi devono togliere 3000 euro che già tutto sto cassino per guadagnare solo 4000 vale la pena se vabbè senti io ci rinuncio beh metti mi piace grazie